Puoi evitare di entrare in una questione di sicurezza? Non andiamo oltre i cavalletti, è una questione di sicurezza. Va bene, va bene. Non date facile. Dovevo accendere. Lo so, però dico... Vuoi sapere se li picchiamo o non li picchiamo? Manderemo su toni di assoluta civiltà la nostra azione contro la profanazione della memoria italiana, che è una memoria unica. La cosa sbagliata è cercare di decontestualizzare gli episodi avvenuti secoli fa, come Cristoforo Colombo, o decenni fa, quando in tutto il Novecento, per esempio, era assolutamente lecito, sbagliando, ma era allora lecito, sposare una ragazza di 14-13 anni, decontestualizzare quegli episodi che uno può oggi giustamente considerare assurdi, ma decontestualizzarli è qualcosa che non ha genitato. Andiamo fino avanti, fermiamo un circolo. Quello che ricordiamo di Indro Montanelli è la grandezza della sua azione di giornalista, l'essere stato vittima delle Brigate Rosse, e non è escluso che è per questo che è tanto antipatico a certe france di sinistra. Grazie. 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 Grazie.